analisi in ottica multi time frame del US tech 100 meglio conosciuto con nasdaq iniziamo la nostra analisi dalla lettura del pannello di controllo net change dove andiamo a vedere quello che ci evidenzia il pannello di controllo quindi per quanto riguarda la l'indice americano l'indice tecnologico americano eccolo qua vedete abbiamo una situazione che quasi tutta negativo vero dal giornaliero fino all'intervallo di tempo semestrale abbiamo che giornaliero chiude almeno 0,25 per cento vero venerdì mentre la settimana chiude almeno 3,24 per cento l'unico dato positivo e con ancora il l'annuale annuale che è ancora stiamo a più 7,16 per cento ma al momento la situazione vedete si mantiene con una tendenza ribassista la stessa situazione l'andiamo e la vediamo anche nella lettura del del pannello di controllo emma dashboard dove anche qua vedete abbiamo la lettura delle medie pesate dal minuto fino al settimanale abbiamo una situazione prettamente ribassista togliendo le medie su m5 ed m30 vedete ancora positive però la maggior parte sono quindi su 9 medie 7 sono negative quindi anche qua abbiamo una situazione prettamente di stampo ribassista quindi da ciò andiamo ci spostiamo sull'analisi del grafico partendo appunto sull'ottica giornaliera beh in un'ottica giornaliera vedete abbiamo una situazione molto interessante dopo i due quasi doppi massimi che si sono presentati su questa zona falso movimento al ribasso poi una ripresa punto di swing importante sulla zona 7.697 20 che livello annuale poi abbiamo un close level a 7.637 80 vedete c'è stato questo deciso movimento ribassista accompagnare una prima correzione questa correzione che fondamentalmente se andiamo a vedere andiamo a calcolare anche con fibonacci precisamente dall'ultimo massimo all'ultimo minimo relativo si è fermato proprio tra l'area 50 61 8 non che test punto di swing terziario a 7356 e 10 da questa zona si è paventata appunto un'altra fase di tendenza ribassista fino ad arrivare alla test di 6.771 e 70 su questa zona dove appunto il prezzo è arrivato venerdì molto spinto vedete si è formato una spinning top anzi una d'oggi vedete una d'oggi quindi candela di indecisione da parte del mercato c'è stato appunto questo massimo un punto di swing si è minimo scusatemi minimo primario da questa zona la la settimana quindi si è chiuso appunto venerdì si è chiuso con una senza una direzione ben precisa appunto andando a come detto prima a costruire una d'oggi questa situazione se appunto andiamo a guardare in ottica h1 vediamo proprio il movimento un movimento dove vedete un movimento dove caratterizzato senza una direzione appunto come ho detto prima ma ben precisa però che cosa sta succedendo qua vedete abbiamo dopo l'ultimo movimento caratterizzata da tante zone di massime e minimi decrescenti praticamente qua c'è stato il prezzo si è fermato su questa zona l'idea è quella ovviamente dopo tanti movimenti più con una maggiore tendenza ribassista molto probabilmente potrebbe iniziare una fase di recupero importante anche in ottica non solo oraria ma anche in ottica giornaliera e a questo punto io mi attendo un rimbalzo un possibile movimento rialzista dove in caso punto di rottura dell'ultimo punto di swing nonché il massimo che è stato registrato a 6.984 6.985 sopra questa zona in caso di breakout di questa zona il prezzo potremmo andare il prezzo potrebbe iniziare una un breve fase una fase di recupero fino ad arrivare a 7.161 e 60 ovvero una zona che se andiamo a vedere vedete nel proprio negli ultimi movimenti è stata più volte presa di mira in caso poi di ulteriore rottura di breakout su questa zona potrebbe ritornare di nuovo sul massimo sull'ultima zona su questo massimo e potrebbe andare quindi ad riprendersi questa zona fino quindi con un test a 7.356 e 10 bene al prossimo appuntamento